Oh sì, favolosa. Dov'è il mio camerino? Portatemi dell'acqua. Voglio l'acqua nella roulotte. Tu hai dei problemi. Hai un sacco di opzioni, ma se preferisci puoi anche non guardare il film. Estrai il disco e io spettro di parlare. Non c'è il rischio di fare scelte sbagliate. L'unica scelta sbagliata è restare seduto lì senza fare niente. Hai un sacco di opzioni, scegli ne una. Così possiamo cominciare. Ti prego, noi non abbiamo altro da fare. Seleziona qualcosa, va bene? Um, sì, voglio mettere un collezionato a America, por favor. Ciao! 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 Oh, ha, 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 yes. Now, what say you and I take a little stroll... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.